... Quella colpa dietro è di quello laggiù, però se arriva dietro c'è pure quella ria. Eh, dico... C'è ria, c'è una ragazza che ci abita, che praticamente sono due anni in mente, che è una ragazza che ci abita, che è una ragazza che ci abita, che è una ragazza che ci abita. Lì hanno domato e spento il rogo. Dietro all'Audi c'era parcheggiata una Volkswagen Golf, che fortunatamente non è stata intaccata dalle fiamme. Ha certamente in corso sull'accaduto. Grazie. 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 Grazie.